Si chiamano Apu e sono le aree urbane pedonali. Da oggi a Teramo sono due, quelle definitivamente consacrate come tali, Corso San Giorgio e Via Capuani. Inoltre stop macchine e furgoni nel perimetro della cattedrale, Piazza Orsini, Piazza Martiri della Libertà, Via San Berardo e Via del Vescovado. Una rivoluzione voluta dall'assessorato al traffico del comune di Teramo che ha già individuato a compensazione 35 nuovi stalli misti nelle strade vicine. Dalle 8 del mattino sino alle 18 del pomeriggio fungeranno da carico e scarico, mentre dalle 18 in poi saranno gratuiti per tutti. I prossimi passi riguarderanno la pedonalizzazione definitiva di Piazza Sant'Anna e di Via Sant'Antonio, un programma che preoccupa però i residenti che vedrebbero diminuire drasticamente la possibilità di parcheggiare nei pressi di casa. Ci sono finalmente due aree pedonali, Corso San Giorgio e Via Capuani, quella di Capuani conosciamo la storia negli anni qual è stata purtroppo, oggi torna a essere un'area pedonale. Questa è in relazione anche a uno studio fatto da Italia Oggi di alcuni mesi fa che dava a questa città una buona posizione ma purtroppo c'era un pesantissimo zero sulle aree pedonali. Oggi ce ne sono due, due aree pedonali che cercheranno di migliorare la qualità della vita in questa città perché un'amministrazione deve tendere soprattutto a questo. Inoltre Piazza Marti e Piazza Orsini che abbiamo visto in questi mesi essere soprattutto un parcheggio. Già da questa mattina si vede un enorme miglioramento anche grazie alla presenza della nostra polizia locale che sta cercando di far capire a tutti i furgoni che impazzavano in questo spazio. Sicuramente adesso troveranno anche degli stalli nelle vicinanze, degli stalli diversi. E sul tema dei parcheggi arriva una buona notizia per i lavoratori della Tercop, la cooperativa che per anni ha gestito gli stalli in centro. Grazie ad una serrata trattativa tra i sindacati e la Easy Help, subentrata alla Tercop dopo essersi aggiudicata all'appalto messo a bando dal Comune, i 23 dipendenti della vecchia cooperativa saranno pienamente riassorbiti a 36 ore con contratti a tempo indeterminato.